buon ciao raga benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova edizione di deck profile con m20 vediamo il primo spoiler la pedina lupo come sempre prima di iniziare se volete supportare il canale like iscrivetevi al canale campanellina commentate richiedete il vostro deck il vostro video quello che volete e ci mettiamo all'opera vi ho portato il mio nuovo mazzetto il mazzo che vi andrò a far vedere oggi è un mazzo bicolore verde e blu con una particolarità andiamo a vedere proprio chi è che mette la pedina lupo perciò lasciamolo qui eccolo qui la salitore del bianco notturno 4 mana 4 4 a lampo e questa abilità la troveremo al 90 per cento delle nostre creature 95 gli altri lupi e mannari che controllano che controlli prendono più 1 più 1 e inizio della nostra sottofase finale se non abbiamo giocato magie mettiamo la pedina 2 2 lupo è una cosa molto facile dato che come vi ho detto giochiamo soprattutto durante il turno dell'avversario se nonno per casi speciali giocheremo tutto durante il turno del nostro opponent allora andiamo in ordine di mana la prima che vi faccio vedere il marinaio spettrale sempre di m20 umana 1 1 pirata spirito a lampo vola e in più un 4 mana ci fa pescare una carta l'unica creatura senza lampo e la sirena che è umana 1 1 che vola la doma tempeste la si può sacrificare con mana blu neutralizziamo una magia che bersaglia a me o una creatura che controlliamo un'altra carta fortissima per questa meccanica è il tagliacole legiamo questa pedina il tagliacole salmastride 2 mana 2 1 lampo quando giochiamo la magia durante il turno dell'avversario gli mettiamo un segnalino più 1 più 1 e lei diventa veramente grossa tre tritone insidiose due due sempre con lampo vabbè ormai lampo avete capito che ce l'ha tutti ok vediamo di farci entrare come sempre tutto il deck quando entra in gioco tappiamo una creatura e quella creatura perde tutta l'abilità fino alla fine del turno l'ultima creatura del deck è lei il la mistica del dal colla colla rino 2 mana blu 2 mana verdi 3 2 lampo quando entra in gioco neutralizziamo magia le nostre magie non creatura sono due opt 2 contro evocazione bella ristampa umana rimbalziamo creatura 3 sincopare un batter d'occhio 2 disperdere l'essenza un negare quattro sabotaggi sempre come counter è un risveglio del video grazie mi è sempre piaciuta questa carta solo che non l'ho mai non sono mai riuscito a inserirla bene è un istantane a 5 mana mettiamo 9 segnalini più 1 più 1 sulla terra per saglio che diventerà una creatura elementare leggendaria con rapidità chiamata vitu cazzi come terre abbiamo tre tempi i cancelli pensatela come check land quella che entra in gioco stappata con isole foresta quattro pozze sette isole e sei foreste e questo è il nostro decco veramente figo l'ho testato in questi due giorni è fighissimo terra passo terra passo quando passerà l'avversario faremo noi le cose countereremo tanto perché abbiamo 4 7 10 14 counter 3 rimbalzini e agriamo con le nostre creature soprattutto con lei è la salitura lui inizierà a cagare un sacco di rupacchiotti che bella full art pure marinaio bellissimo a gioco prolungato con quattro male ci fa pescare carta è forte terre quando abbiamo detto 7 13 23 terre ci sono e niente raga fatemi sapere cosa ne pensate dal vostro assalitore blanco notturno è tutto ci vediamo al prossimo video